È un riconoscimento che attendevamo ormai da anni, dopo il lavoro svolto e l'abnegazione adotta per questo tipo di attività, che è un'attività misconosciuta, perché il paziente intossicato è un paziente che può sembrare facile, ma a volte, in vari casi, risulta essere di una complessità multifunzionale che può avere e dare anche esiti sfavorevoli. Questo lavoro svolto in Sordina ci permetteva di raggiungere traguardi e obiettivi che nemmeno noi speravamo di raggiungere, come tutti i centri antiveleni inseriti a livello nazionale, tenga conto che siamo appena 9 centri, di cui 3 in Lombardia, quindi dopo il Lazio c'è Napoli che purtroppo con certe ristrettezze continua a funzionare, però i centri antiveleni non sono ricchi, diciamo così, e ci siamo noi nella Puglia. Quindi il traguardo è un traguardo che è veramente notevole, oltre a espanderci in tutta la regione, ma anche a livello extra regionale, e anche dare un lavoro all'utenza in maniera continuativa, in quanto è un servizio inserito nel sistema di emergenza urgenza H24, ci ha permesso anche di entrare attraverso l'ECA, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, nella lista, siamo appena in 3, come centri antiveleni per dare indicazioni circa la tossicità delle sostanze chimiche. Qual è la prima cosa che bisognerebbe fare nel caso di cui un bambino ingoi qualcosa che non dovrebbe? Beh, la prima cosa se parliamo di farmaci o di sostanze, di detersivi, la cosa che spessissimo ci capita, non tentare di farlo vomitare, perché il passaggio della sostanza dannosa, tossica, una seconda volta potrebbe provocare complicazioni ancora più gravi del primo passaggio, e il famoso detto bevi il latte, che il latte è un antidoto, non va affatto. La prima cosa da farsi è telefonare un centro antiveleni.